in un ministero ma è meglio non dire quale non c'è nulla di più suscettibile dei ministeri dei reggimenti degli uffici e insomma di ogni sorta di corpo burocratico al giorno d'oggi ormai ogni privato cittadino ritiene che in esso venga offesa tutta la società pare che molto recentemente un capitano di polizia non ricordo di quale città abbia presentato un esposto in cui si dice a chiare note che le istituzioni statali vanno in rovina e che il loro sacro nome viene pronunciato in vano e come a prova delle sue affermazioni costui ha legato all'esposto il grosso volume di un'opera letteraria dove ogni dieci pagine appare un capitano di polizia in certi punti persino in stato di ubriachezza perciò a evitare ogni seccatura sarà meglio chiamare un ministero il ministero di cui si tratta dunque in un ministero prestava a servizio un funzionario un funzionario che non si può dire fosse molto importante era anzi di bassa statura alquanto butterato rossiccio perfino un po' debole di vista con una incipiente calvizia sulla fronte con rughe da entrambe le parti delle guance e quel colore della facce che si dice emorroidale che farci la colpa è del clima di pietroburgo quanto al grado già che da noi bisogna innanzitutto dichiarare il grado era ciò che viene chiamato un eterno consigliere titolare del quale come noto si sono beffati e presi gioco in abbondanza i vari scrittori che hanno la lodevole abitudine di prendersela con quelli che non possono mordere il cognome del funzionario era bashmachin già da questo nome si vede che esso in un tempo lontano aveva avuto origine da bashmach scarpa ma quando in quale epoca e in quale modo esso fosse derivato dalla scarpa è assolutamente ignoto sia il padre sia il nonno sia il cognato insomma assolutamente tutti i bashmachin andavano in giro con gli stivali rinnovando solo tre volte all'anno le suole il suo nome era Acai Acaievich al lettore pare forse alquanto strano e ricercato ma posso assicurare che esso non era stato affatto scelto ma a causa di particolari circostanze non fu assolutamente possibile dare un altro nome avvenne precisamente così Acai Acaievich nacque verso sera se la memoria non mi tradisce il 23 di marzo la madre moglie di un funzionario e ottima donna si dispose come si usa a battezzare il bambino e la giaceva ancora a letto di fronte alla porta e alla sua destra stava il padrino uomo eccellente Ivanovich Eroskin che prestava servizio come capo ufficio al senato e la madrina moglie di un ufficiale di polizia donna di rara virtù Arina Semenova Belobriuskova alla genitrice proposero di scegliere fra uno dei tre seguenti nomi Mokisossii oppure di chiamarlo con il nome del martire Chosdazat No, pensò la madre, che razza di nomi Per compiacerla aprirono il calendario su un punto uscirono altri tre nomi Trifili, Dula e Varasaschi Ma questo è un flagello, disse la donna che razza di nomi continuano a venire fuori Io davvero non li ho mai sentiti fosse ancora Varadato o Varuk Ma Trifili e Varakashi voltarono ancora la pagina e uscirono Pavsikaki e Vaktiji Beh, ormai credo, disse la donna e a quel che pare questo è il destino Già, che deve essere così meglio che si chiami come suo padre Suo padre era Akaki e che pure il figlio dunque sia Akaki E in questo modo salto fuori Akaki Akakievich Un bambino venne battezzato e durante il battesimo egli si mise a piangere e fece una smorfia come se avesse il presentimento di diventare un giorno consigliere titolare Così, ecco come avvenne tutto ciò Abbiamo riportato questi fatti per far convinto il lettore che ciò accadde proprio per necessità di cose e che non si poteva assolutamente imporre un altro nome Quando e in quale modo Akaki Akakievich fosse entrato al ministero e chi ve l'avesse messo è una cosa che nessuno ricordava Quanti direttori e vari superiori cambiassero videro sempre lui allo stesso posto nella stessa posizione con le stesse funzioni sempre allo stesso impiegato copista tanto che poi si persuasero che evidentemente doveva essere venuto al mondo così già pronto con l'uniforme e con la calvizia sulla testa Nel ministero non gli dimostravano alcuna stima non soltanto i custodi non si alzavano dai loro posti quando passava ma nemmeno lo guardavano come se attraverso l'anticamera fosse volata una semplice mosca i superiori si comportavano con lui in un certo modo freddamente dispotico un qualsiasi utente del capo ufficio gli ficcava letteralmente sotto il naso gli incartamenti senza neppure dirgli copiate oppure ecco un bello affaruccio interessante o insomma qualcosa di piacevole come si usa negli uffici dove c'è della buona educazione e lui prendeva guardando solo l'incartamento senza badare a chi gliel'aveva messo lì e se ne avesse il diritto prendeva e subito si metteva a copiarlo i giovani funzionari ridevano di lui e lo motteggiavano per quanto poteva l'arguzia burocratica raccontavano in sua presenza vane storie inventate sul suo conto per esempio dicevano che la sua padrona di casa una vecchia settantenne lo picchiava e domandavano quando loro due si sarebbero sposati oppure gli spargevano sulla testa pezzi di carta dicendo che era neve a questo però Akaki Akakievice non rispondeva con una sola parola come se non avesse nessuno davanti a sé e non si lasciava distrarre dalle sue occupazioni in mezzo a tutte queste molestie non faceva un solo sbaglio nel copiare solo se lo scherzo era troppo insopportabile se gli davano un colpo sul braccio disturbandolo nel suo lavoro esclamava lasciatemi stare perché mi offendete e c'era anche di strano nelle parole e nella voce con cui venivano dette e si avvertiva qualcosa che induceva la compassione tanto che un giovanotto da poco entrato in servizio e che aveva cominciato secondo l'esempio degli altri a burlarsi di lui a un tratto si fermò colpito e da quel momento fu come come se tutto fosse cambiato ai suoi occhi e gli apparisse sotto un aspetto diverso una specie di forza sopranaturale lo respinse dai compagni con i quali aveva fatto conoscenza ritenendoli persone distinte ed educate e poi per molto tempo nei momenti più allegri seguitò ad apparirgli il piccolo funzionario con la calvizia che diceva le parole toccanti lasciatemi stare perché mi offendete e in queste parole altre ne echeggiavano io sono un tuo fratello il povero suonotto si copriva allora la faccia con una mano e in seguito molte volte trasalì nella sua vita vedendo quanta disumanità ci sia nell'uomo quanta furiosa volgarità si nasconda nella personalità più raffinata e colta e Dio persino in individui che il mondo reputa nobili e onesti sarebbe stato difficile trovare un uomo che vivesse così del suo lavoro è poco dire che egli prestava servizio con zelo no prestava servizio con amore lì in quel copiare egli vedeva un certo mondo proprio vario e piacevole la soddisfazione si dipingeva nella sua faccia alcune lettere erano le sue favorite e quando vi si imbatteva non era più lui ridacchiava micchiava si aiutava con le labbra sicché pareva che sulla sua faccia si potesse leggere ogni lettera che la sua penna vergava se l'avessero ricompensato in maniera proporzionata al suo zelo con la sua meraviglia egli sarebbe forse diventato persino consigliere di stato mentre tutto ciò che aveva ottenuto come si esprimevano gli spiritosi suoi compagni era una mostrina all'occhiello e l'emorroide ai lombi del resto non si può dire che non si facesse alcuna attenzione a lui un direttore che era un buon uomo e voleva ricompensarlo per il lungo servizio ordinò di dargli qualcosa di più importante della solita copiatura gli fu così ordinato di stendere di una pratica già pronta una relazione a un altro ufficio si trattava soltanto di cambiare il titolo di testa e poi di portare alcuni verbi dalla prima persona alla terza ma questo gli costò una tale fatica che gli diventò tutto un sudore si terse la fronte e alla fine disse no datemi piuttosto qualcosa da copiare da quella volta lo lasciarono per sempre il suo lavoro di copiatura fuori del copiare sembrava che per lui non esistesse niente non pensava affatto al proprio abito l'uniforme che portava non era verde ma di un certo colore rossiccio farinoso il colletto l'aveva così basso e stretto che il collo quantunque non fosse affatto lungo uscendo da quel colletto pareva insolitamente lungo come in quei gattini di cesso che muovono la testa e che venditori ambulanti russi sedicenti stranieri portano sul capo a decina intere e poi c'era sempre qualcosa appiccicato la sua uniforme una pagliuzza o un filo per di più aveva la speciale arte quando usciva in strada di capitare sotto una finestra proprio all'istante in cui da essa buttavano fuori ogni sorta di porcherie e perciò sul suo cappello non mancavano mai scorze di anguria di melone e altre sciocchezzuole del genere mai una volta nella vita aveva rivolto l'attenzione a ciò che si faceva e che accadeva ogni giorno per strada cosa a cui come noto sempre guardano i suoi colleghi i giovani funzionali che talmente estendono la capacità penetrativa del loro vivace sguardo da notare addirittura sul marciapiede opposto un bordo di pantaloni scuciti ciò che sempre suscita un malizioso sorriso sulla loro faccia ma Akai Akakievicz anche se guardava qualcosa vedeva sempre le sue righe pulite scritte con calligrafia regolare e forse soltanto se un muso di cavallo venuto chissà di dove gli si appoggiava su una spalla e gli soffiava dalle froghe un uragano di vento nel collo forse solo allora si accorgeva che non stava a metà di una riga ma a metà di una strada arrivando a casa si sedeva subito a tavola tranguciava alla svelta i suoi cavoli e mangiava un pezzo di manzo con la cipolla senza rendersi conto del loro sapore mangiava tutto questo insieme con le mosche e con tutto quello che Dio gli mandava in quel momento quando sentiva che lo stomaco cominciava a gonfiarsi si alzava da tavola tirava fuori una boccetta d'inchiostro e ricopiava qualche incartamento che si era portato a casa se non ne aveva faceva apposta per il proprio piacere una copia per sé specialmente se l'incartamento era considerevole non tanto per l'eleganza dello stile quanto per il fatto che si rivolgeva a qualche personaggio nuovo o importante persino nelle ore in cui il grigio cielo di Pietroburgo si spegne completamente e tutto il popolo in piegatizio seppasciuto e saziato come ognuno può in conformità agli stipendi al personale capriccio quando tutti riposano dopo il ministeriale scritti olio di penne il correre qua e là le imprescindibili occupazioni proprie altrui che l'uomo inquieto si assegna volontariamente persino più del necessario quando i funzionari si affrettano a dedicare al piacere il tempo che resta chi è più vivace corre a teatro chi in strada dedicando il proprio tempo alla contemplazione di certi cappellini chi ha una serata predicando complimenti a qualche leggiatra ragazza stella ad una piccola cerchia di funzionari chi e questo succede più spesso se ne va semplicemente da un amico a un quarto o terzo piano in due piccole stanze con un'anticamera e una cucina e certe pretese di eleganza una lampada un'altra cosetta che è costata molti sacrifici rinunce a pranzi e passeggiate insomma anche nell'ora in cui tutti i funzionari si sparpagliano nei piccoli alloggi degli amici a giocare un burrascoso whist sorseggiando il tè dai bicchieri insieme con biscotti da un copeco aspirando il fumo da lunghe pipe riportando mentre si danno le carte qualche maldicenza dell'alta società dal che mai e nessuna situazione può esimersi l'uomo russo nessuno quando non c'è altro di cui parlare raccontando l'eterna barzelletta del poliziotto a cui vengono a dire che è stata tagliata la coda al cavallo del monumento di falconet insomma anche quando tutti corrono a distrarsi Akai Akakievic non si abbandonava ad alcun divertimento nessuno poteva dire di averlo mai veduto a qualche serata dopo aver copiato a sazietà si metteva a letto sorridendo in anticipo al pensiero del domani di quel che l'indomani Dio gli avrebbe mandato da copiare così trascorreva la sua pacifica esistenza un uomo che con 400 rubli di stipendio sapeva essere contento della sua sorte e avrebbe forse raggiunto così la tarda vecchiaia se la strada della vita non fosse disseminata da vari guai non solamente per i consigliari e titolari ma anche per quelli segreti effettivi di corte e di ogni altro genere e persino per quelli che non danno consigli a nessuno e da nessuno ne prendono c'è a Pietroburgo un forte nemico di tutti coloro che ricevono 400 rubli all'anno di stipendio o giù di lì questo nemico non è altri che il gelo pietroburghese sebbene qualcuno dica che sotto diversi aspetti sia assai salutare alle nove del mattino precisamente nell'ora in cui le strade si riempiono di coloro che si recano ai ministeri adesso comincia a dare pizzicotti così energici e pungenti su tutti i nasi senza distinzione che i poveri funzionari non sanno più dove infilarli a quest'ora quando anche a chi occupa le cariche più elevate duole la fronte per il gelo e vengono le lacrime agli occhi i poveri consiglieri titolari sono talvolta completamente indifesi l'unica salvezza consiste nel percorrere di corsa con il leggero paltoncino cinque o sei strade e poi pestare per bene i piedi in anticamera fino a quando tutte le facoltà e le doti naturali necessarie alle mansioni d'ufficio congelatesi lungo la strada non si disgelano per bene da qualche tempo Akaki Akakievic cominciava ad avvertire in modo particolarmente acuto sulle spalle e sulla schiena i rigori del gelo benché si sforzasse di percorrere al più presto e di corsa il tragitto dalla casa all'ufficio alla fine si chiese se il suo cappotto non avesse qualche difetto dopo averlo accuratamente esaminato a casa sua scoprì che in due o tre posti precisamente sulla schiena e sulle spalle esso era diventato leggero come un velo il panno era talmente liso che si si vedeva attraverso e la fodera si sfilacciava bisognava sapere che anche il cappotto di Akaki Akakievic era oggetto delle derisioni dei colleghi gli avevano perfino negato il nobile nome di cappotto e lo chiamavano vestaglia in realtà esso aveva una strana caratteristica ogni anno il suo colletto diventava sempre più piccolo perché serviva per rattoppare le altre parti il rattoppo non rivelava alcun'arte da parte del sarto e l'effetto non era bello sembrava un sacco cadente accertata la situazione Akaki Akakievic decise che bisognava portare il cappotto da Petrovic il sarto che abitava al quarto piano di una scala di servizio e nonostante un occhio storto e la faccia tutta butterata si occupava con una certa abilità della riparazione ad ogni sorta di pantaloni e di fracchi impiegatizi ciò si capisce quando era in stato di sobrietà e non cullava in testa qualche altra impresa di questo sarto naturalmente non occorrerebbe parlare molto ma già che si usa in ogni racconto delineare completamente il carattere di ogni personaggio non c'è nulla da fare dateci qui pure Petrovic in un primo tempo egli si chiamava semplicemente Gregori e era un servo della gleba di qualche signore aveva cominciato a chiamarsi Petrovic da quando aveva ottenuto il riscatto e si era messo a bere piuttosto forte a ogni festa comandata all'inizio solo a quelle grandi e poi senza distinzione a tutte le feste della chiesa che fossero segnate con una crocetta sul calendario da questo punto di vista egli era fedele ai costumi degli avi e litigando con la moglie la chiamava donna mondana e tedesca dato che abbiamo accennato alla moglie sarebbe necessario dire due parole anche su di lei ma purtroppo poco si sa forse soltanto che Petrovic aveva appunto una moglie che essa portava addirittura la cuffia e non il fazzoletto in testa ma ad essere bella a quanto pare non poteva vantarsi o almeno incontrandola solamente i soldati della guardia sbirciavano sotto la sua cuffia arricciandosi i baffi ed emettendo un suono tutto speciale arrampicandosi su per la scala che portava da Petrovic e che ad essere giusti era interamente ricoperta d'acqua di risciacquatura e intrisa di quell'odore dell'alcol che brucia gli occhi e come noto è presente in tutte le scale di servizio delle case di Pietroburgo arrampicandosi dunque su per la scala Akaki Akakievich pensava quanto gli avrebbe chiesto Petrovic e mentalmente aveva stabilito di non dargli più di due rubli la porta era aperta perché la padrona di casa preparando del pesce aveva fatto tanto fumo in cucina che non si vedevano più nemmeno gli scarafaggi Akaki Akakievich attraversò la cucina senza che la padrona neppure lo notasse ed entrò finalmente nella stanza dove vide Petrovic è seduto su una larga tavola di legno grezzo con le gambe ripiegate sotto di sé come un pasciaturco secondo l'abitudine dei sarti quando sono al lavoro i piedi erano nudi la prima cosa che saltò agli occhi di Akaki Akakievich fu l'alluce che gli conosceva assai bene con un'unghia deformata grossa e robusta come il guscio di una tartaruga al collo di Petrovic pendevano numerosi fili di seta e sulla ginocchia era steso un cencio erano già almeno tre minuti che egli tentava di infilare il filo nella cruna del lago non ci azzeccava e perciò era molto arrabbiato con l'oscurità e anche col filo e brontolava a mezza voce non c'entra il barbaro ma proprio stancato razza di farabutto ad Akaki Akakievich dispiacque di essere arrivato proprio in quel momento in cui Petrovic era infuriato a lui piaceva ordinare qualcosa a Petrovic quando quest'ultimo era già un poprillo o come si esprimeva la moglie era abbuffato di vottica diavolo guercio in quello stato di solito Petrovic cedeva di buon grado e accettava tutto e ogni volta persino si inchinava e ringraziava e poi è vero arrivava la moglie piangendo che il marito era ubriaco e perciò aveva chiesto troppo poco ma di solito si aggiungeva un grivenic e tutto andava a posto adesso invece Petrovic sembrava in perfetto stato di sobrietà e perciò duro taciturno e pronto a esistere chissà quale prezzo Akaki Akakievich capì questo e come si dice avrebbe voluto quasi quasi fermarsi indietro ma ormai la faccenda era avviata Petrovic strezzò verso di lui molto attentamente il suo unico occhio e Akaki Akakievich senza volerlo mormorò buongiorno Petrovic buona salute signoria disse Petrovic e fissò l'occhio sulle mani di Akaki Akakievich per vedere che razza di preda avesse portato con sé io ecco per te Petrovic questo bisogna sapere che Akaki Akakievich si esprimeva principalmente con preposizioni con avverbi insomma con particelle che non hanno assolutamente alcun significato se poi la questione era imbarazzante aveva anche l'abitudine di non terminare affatto la frase tanto che spesso avendo cominciato con le parole ecco davvero assolutamente quello poi non seguiva più nulla e lui stesso si dimenticava del resto credendo ad avere già detto tutto che razza di roba è disse Petrovic mentre squadrava col suo unico occhio l'uniforme di Akaki Akakievich dal colletto alle maniche alla schiena alle palde alle asole roba che però gli era tutta già ben nota perché lavoro suo questa è l'abitudine dei sarti questa è la prima cosa che fanno nel vedervi e io ecco che cosa Petrovic il cappotto già il panno ecco vedi negli altri posti razza bene si è un po' impolverato e sembra vecchio ma invece è nuovo solo che in questo posto è un poco così sulla schiena e poi vedi anche su una spalla sei un poco consumato sì ecco su questa spalla un po' ecco ecco tutto e non c'è tanto lavoro Petrovic prese la vestaglia e la distese sulla tavola la eseminò a lungo scosse la testa e allungò la mano verso la finestra per prendere la sua tabacchiera rotonda con il ritratto di un generale quale precisamente non si sa perché il punto dove si trovava la faccia era stato sfondato dal dito e poi rattoppato con un quadratino di carta incollata hanno usato il tabacco Petrovic allargò la vestaglia fra le mani e la esaminò contro luce e di nuovo scosse la testa poi la rovesciò dalla parte della fodera e di nuovo scosse la testa di nuovo levò il coperchio con la carta incollata sopra il generale e riempiendosi il naso di tabacco chiuse la tabacchiera la ripose e finalmente disse no non si può riparare è in cattivo stato a queste parole il cuore di Akaki Akakaievic ebbe un balzo come non si può Petrovic disse con voce quasi sopplichevole da bambino è consumato soltanto sulle spalle tu devi pure avere dei pezzi di stoffa da metterci certo i pezzi si possono trovare i pezzi si trovano disse Petrovic ma è cucirli che non si può è roba completamente marcia come la tocchi con l'ago ti si disfa in mano che si disfie pure tu subito ci metti una pezza ma non so dove appoggiare le pezze non c'è presa è troppo logoro ormai non è panno questo ma gloria come soffia un po' di vento vola via e tu appunto rinforzalo come sarebbe a dire così davvero questo no disse deciso Petrovic non si può far nulla è una brutta faccenda meglio piuttosto appena verrà il freddo dell'inverno che ve ne facciate delle pezze per i piedi perché la calza non tiene abbastanza caldo sono stati tedeschi inventarla per farci più soldi appena c'era il modo Petrovic piaceva tirare una frecciata contro i tedeschi e di cappotto dovete farvene uno nuovo alla parola nuovo Akaki Akakaievic si sentì annebbiare la vista e tutto quello che era nella stanza cominciò a confondersi vedeva chiaramente soltanto il generale con la faccia coperta dal pezzetto di carta sul coperchio della tabacchiera di Petrovic come sarebbe nuovo disse sempre sentendosi come in un sogno ma io per questo i soldi non li ho sì nuovo disse con crudele flemma Petrovic ma e se per caso uno nuovo costa quanto ossia quanto costerà sì e bisognerà metterci centocinquanta rubli o poco più disse Petrovic stringendo significativamente le labbra a lui piaceva molto fare effetto mi piaceva colpire forte la gente di primo acchito poi guardare di traverso che faccia facesse la persona che gli aveva colpito con le sue frasi centocinquanta rubli un cappotto gridò il povero Akaki Akakaievic e forse gridò per la prima volta dalla sua nascita perché sarà sempre distinto per il tono sommesso della sua voce sì signore disse Petrovic e poi si tratta di vedere quale cappotto se si vuole della martora sul collo e magari il cappuccio con la fodera di seta allora si va sui duecento Petrovic ti prego disse Akaki Akakaievic con voce supplichevole senza sentire e senza nemmeno cercare di sentire le parole a effetto dette da Petrovic riparalo in qualche maniera in modo che mi serva ancora un poco ma no sarebbe come buttare via il lavoro a spendere i soldi per niente disse Petrovic queste parole annientarono del tutto Akaki Akakaievic quanto a Petrovic dopo che quest'ultimo se ne fu andato rimase ancora per un bel pezzo in piedi con le labbra significativamente serrate senza rimettersi al lavoro contento di non essersi umiliato e di non aver tradito l'arte di sarto uscito in strada Akaki Akakaievic era ancora trassognato bella storia bella diceva se stesso davvero non l'avrei mai pensato che sarebbe andata a finire così e poi dopo un certo silenzio giunse sicché sarebbe così e in fin dei conti ecco cos'è venuto fuori e io davvero non potevo supporre che fosse così a questa constatazione seguì una lunga pausa poi gli esclamò sicché dunque sarebbe così e guarda che roba dico inaspettata già questa proprio no guarda che roba detto questo invece di andare a casa si avviò senza rendersene conto esattamente dalla parte opposta per strada uno spezzacamino coperto di fuligine l'urtò di fianco e gli annerì tutta una spalla un'intera secchia di calce si riversò sopra di lui dalla cima di una casa in costruzione e non si accorse di nulla e soltanto più tardi quando si scontrò con una guardia che posata vicino a sé la sua alabarda scuoteva un corno per versarne il tabacco sulla palma callosa soltanto allora ritornò un po' in sé e dal resto solo perché la guardia disse che hai da sbattermi sul muso non hai il tuo marciapiede questo lo costrinse a guardarsi in giro e a svoltare verso casa qui finalmente cominciò a raccogliere i pensieri vide nella sua vera luce la propria situazione e si mise a parlare con sé stesso non più in modo sconclusionato ma ragionevolmente e francamente come con un amico giudizioso con il quale si può parlare di ciò che più ci sta a cuore ebbene no diceva Kakia Kakajevic con Petrovic ora non si può discutere adesso lui quello si vede che la moglie gliele ha suonate meglio che vada da lui domenica mattina dopo la vigilia del sabato avrà l'occhio appannato e sarà mezzo insonnolito se chi avrà bisogno di smaltire la sbornia la moglie soldi non gliene darà e io allora proprio in quel momento gli metto un Grivnik nella mano e lui sarà più trattabile e allora pure il cappotto già quello così ragionava con sé stesso a Kakia Kakajevic si fece animo e attese la prima domenica visto da lontano che la moglie di Petrovic era uscita di casa per andare in qualche posto se ne andò dritto da lui Petrovic appunto dopo il sabato aveva l'occhio assai annebbiato la testa gli penzolava verso il pavimento ed era tutto insonnolito ma nonostante ciò non appena seppe di che cosa si trattava fu come se qualche diavolo l'avesse scottato è impossibile disse dovrete ordinarne uno nuovo fu proprio a questo punto che Akaki e Kakajevic gli ficò in mano un Grivenik vi ringrazio signoria mi rifarò un poco alla vostra salute disse Petrovic ma quanto al cappotto dovete lasciar perdere non è più buono neanche far stracci vi farò un pennello di cappotto nuovo state tranquillo Akaki e Kakajevic ricominciò a chiedere che lo ripassasse ma Petrovic non stette a sentirlo e disse uno nuovo ve lo faccio a pennello su questo ci potete contare ci metterò tutta la mia attenzione si può fare anche come va di moda adesso il colletto che si abbottona con zampine d'argento pleccato fu qui appunto che Akaki e Kakajevic vide che ed un cappotto nuovo non si poteva fare a meno e si perse completamente d'animo come farlo in effetti con che cosa con quali soldi certo in parte si poteva contare su una futura gratifica per le feste ma quei soldi erano già stati da tempo destinati e distribuiti c'era bisogno di farsi dei pantaloni nuovi di pagare al calzolaio un vecchio debito per l'applicazione di nuove tomaie a vecchi stivali e poi bisognava ordinare alla camiciaia tre camice nonché due capi di quella biancheria che non sta bene nominare sui libri insomma tutti i soldi dovevano andarsene e se anche il direttore fosse stato tanto misericordioso da fissargli 45 o 50 rubli di gratifica invece di 40 sarebbe rimasto comunque una sciocchezza una goccia nel mare rispetto al capitale che ci voleva per il cappotto sebbene egli sapesse che Petrovic aveva il ghirvizzo di sputare fuori spropositi di prezzi che sa il diavolo tanto che persino sua moglie non poteva trattenersi dal gridare e che sei impazzito specie di cretino a volte prendi il lavoro per niente e adesso ti piglia la mattana di chiedere quello che non costi neanche tu sebbene dunque sapesse che Petrovic gliel'avrebbe fatto anche per 80 rubli dove prenderli però quegli 80 rubli la metà ancora si sarebbe potuta trovare la metà sarebbe anche venuta fuori forse anche un po' di più ma dove prenderla l'altra metà ma prima il lettore deve sapere da dove poteva venire fuori la metà della somma Akaki Akakajewicz aveva l'abitudine di mettere per ogni rublo che spendeva un centesimo in una cassettina chiusa a chiave con una fessura intagliata nel coperchio appunto per infilarci i soldini allo scadere ad ogni semestre egli controllava gli spiccioli che vi si erano accumulati e li cambiava in monete d'argento così continuava a fare da tempo e ormai dopo diversi anni la somma era arrivata a più di 40 rubli sicché una metà l'aveva in mano ma dove prendere l'altra metà dove prendere gli altri 40 rubli Akaki Akakajewicz meditò meditò e decise che non c'era altro da fare che ridurre per almeno un anno le specie abituali eliminare l'uso del tè la sera non accendere la candela dopo il buio e se c'era qualcosa da fare andare nella camera della padrona a lavorare con la sua candela camminando per strada procedere più leggermente e cautamente possibile sui sassi e sul selciato quasi in punta di piedi per non consumare prima del tempo le suole dare assai raramente da lavare la biancheria alla lavandaia e perché non si consumasse lavarsela subito ogni volta che tornava a casa e restare soltanto con la veste da camera di cotonina molto vecchia ma abbastanza risparmiata dal tempo bisogna dire la verità da prima gli fu difficile abituarsi a simili limitazioni ma poi in qualche modo esse entrarono nella consuetudine e tutto gli andò benissimo si era persino perfettamente allenato a digionare la sera ma in compenso si nutriva spiritualmente fantasticando all'idea del futuro cappotto da quel momento parve che la sua stessa esistenza si facesse in un certo senso più piena come se si fosse sposato come se qualche altra persona vivesse con lui come se non fosse più solo ma una gradita compagna avesse consentito a percorrere al suo fianco il cammino della vita e questa amica non era altra appunto che quel cappotto bene imbottito con una robusta fodera che non si sarebbe consumata e gli diventò anche più vivace persino più fermo di carattere come un uomo che si è ormai stabilito fissato uno scopo dalla sua faccia e dai suoi atti scomparvero il dubbio l'indecisione insomma tutti gli aspetti oscillanti e indeterminati talvolta nei suoi occhi brillava una fiamma nella testa gli balenavano persino i pensieri più bruschi e arditi perché proprio non mettere della martora sul colletto pensò preso da tali riflessioni poco mancava che finisse col distrarsi una volta copiando una carta fu lì lì per fare un errore tanto che poi esclamò quasi ad alta voce e si fece il segno della croce ogni mese andava a trovare almeno una volta Petrovice per parlare del cappotto dove fosse meglio comprare la stoffa e a quale prezzo e ogni volta tornava a casa contento anche se un po' preoccupato pensando che alla fine doveva pur venire il momento in cui avrebbe acquistato tutto il necessario e il cappotto sarebbe stato fatto la faccenda andò anche più in fretta di quanto lui si aspettasse smettendo i suoi sogni perditi il direttore non assegnò ad Akaki a Kakajevis 40 o 45 rubli ma addirittura 60 sia che presentisse che ad Akaki a Kakajevis occorreva in cappotto sia che la cosa accadesse da sé fatto sta che grazie a ciò egli si trovò 20 rubli in più questa circostanza accelerò i tempi ancora due o tre mesi di fame non troppo rigida e Akai a Kakajevis si trovò ad avere raccolto esattamente 80 rubli il suo cuore in genere assai tranquillo cominciò a battere subito il giorno stesso egli si recò in compagnia di Petrovic a fare il giro dei negozi acquistarono dell'ottima stoffa e non era poi tanto difficile dato che ci avevano pensato già sei mesi prima ed era raro il mese in cui non fossero andati nei negozi per informarsi sui prezzi lo stesso Petrovic disse che stoffa migliore non ce n'era per la fodera scelsero del calicò ma così buono e robusto che secondo le parole di Petrovic era anche migliore della seta e persino più bello e più lucido la martora non la comprarono perché appunto era cara e al suo posto scelsero del miglior gatto che si trovasse in negozio un gatto che da lontano si poteva sempre scambiare per martora Petrovic si diede da fare intorno al cappotto due settimane in tutto perché c'era molto lavoro di impuntatura altrimenti sarebbe stato pronto prima per il lavoro Petrovic prese 12 rubli meno era proprio impossibile tutto era stato cucito con un filo di seta doppia costura corta e su ogni cucitura Petrovic era poi passato con i propri denti lasciandovi i segni fu un è difficile dire che giorno preciso ma probabilmente fu il giorno più solenne della vita di Akaya Kakajevich quello in cui Petrovic gli portò finalmente il cappotto lo portò di mattina proprio un attimo prima che lui uscisse per andare al ministero mai in un altro momento il cappotto sarebbe venuto così a proposito perché il freddo aveva cominciato a farsi sentire e minacciava di aumentare ancora Petrovic si presentò con il cappotto come sa dice un buon sarto sulla sua faccia era dipinta un'espressione così compresa come Akaya Kakajevich non gliel'aveva mai visto prima pareva che gli sentisse pienamente d'aver fatto un'opera non di poco conto e che di colpo avesse avvertito in sé l'abisso che separa i sarti buoni soltanto ad applicare fodere o a fare riparazioni da quelli che confezionano ex novo tira dunque fuori il cappotto dal fazzolettone da naso in cui l'aveva avvolto il fazzolettone era fresco di bucato sì che lui poi lo ripiegò e se lo rimise in tasca per usarlo tirato fuori il cappotto lo guardò con molto orgoglio e reggendolo con entrambe le mani lo posò abilmente sulle spalle di Akaya Kakajevich poi lo distese e glielo aggiustò da dietro verso il basso quindi lo drappeggiò addosso ad Akaya Kakajevich lasciando sbottonato qualche bottone Akaya Kakajevich da uomo esperto volle provarlo nelle maniche Petrovich l'aiutò ad infilare anche le maniche andavano bene insomma risultò che il cappotto era perfettamente e precisamente riuscito in quell'occasione Petrovich non tralasciò di dire che lui aveva preso così poco soltanto perché abitava in una viuzza e non aveva insegna e per di più conosceva da tempo Akaya Kakajevich già che sulla prospettiva Nevsky solo per il lavoro gli avrebbero preso 75 rubli Akaya Kakajevich rifiutò di mettersi a ragionare di queste cose con Petrovich del resto impaurivano già le forti semine con cui a Petrovich piaceva gettare polvere negli occhi pagò il conto lo ringraziò e immediatamente uscì col capotto nuovo per andare al ministero Petrovich uscì dietro di lui e fermo sulla strada guardò ancora a lungo da lontano il cappotto poi prese apposta da un'altra parte per correre di nuovo sulla strada aggirandola per un vicolo laterale così da poter guardare ancora una volta il suo cappotto da un altro punto di osservazione ossia proprio di faccia tra tanto Akaya Kakajevich camminava nella più lieta disposizione di tutti i suoi sentimenti ogni minuto ogni istante sentiva di avere sulle spalle un cappotto nuovo e varie volte persino sorrise di intera soddisfazione in realtà c'erano due vantaggi uno che stava al caldo e secondo che faceva figura della strada percorsa non si accorse affatto e si trovò al ministero senza rendersene conto quando in anticamera si tolse il cappotto lo esaminò tutto attorno e la fidò alla particolare sorveglianza dell'uscere non si sa come tutti al ministero vennero a sapere che Akaki Akaya Kakajevich aveva un cappotto nuovo e che la vestaglia non esisteva più e sull'istante tutti accorsero in anticamera a vedere il nuovo cappotto di Akaki Akaya Kakajevich cominciarono a felicitarsi con lui a complimentarlo tanto che egli dapprima si limitò a sorridere ma poi prova perfino vergogna infine quando tutti attorniandolo cominciarono a dire che bisognava bagnare il cappotto nuovo e che quanto meno egli doveva dare una cena Akaki Akajevich si smarrì completamente non sapendo più come comportarsi che cosa rispondere e come sottrarsi con un pretesto già da qualche minuto tutto rosso in faccia aveva cominciato ad assicurare piuttosto ingenuamente i colleghi che non si trattava affatto di un cappotto nuovo che era solo così che era un cappotto vecchio finalmente uno dei funzionari addirittura un vice capo ufficio probabilmente per far vedere che non era un superbo e trattava anche con gli inferiori disse faremo così darò io la serata invece di Akaki Akakajevich e vi invito oggi da me per il tè come a farlo apposta infatti oggi è il mio nomastico normalmente i funzionari fecero gli auguri al vice capo ufficio e accettarono volentieri la proposta Akaki Akakajevich cominciò con il dire che non poteva ma tutti si misero a gridare che era una scortesia che era una vera vergogna un'innominia e lui non poteva rifiutare ripensandoci del resto la cosa gli fece piacere dato che in questo modo avrebbe avuto l'occasione di recarsi anche alla serata con il cappotto nuovo tutta quella giornata fu per Akaki Akakajevich fece come una grande festa solenne ritornò a casa nel più felice stato d'animo si levò il cappotto e lo appese con cura alla parete dopo averne ammirato ancora una volta la stoffa e la fodera e poi tirò apposta fuori per fare un paragone la vecchia vestaglia che andava completamente a pezzi la guardò e scoppiò a ridere da solo che enorme differenza e anche dopo pranzo continuò a lungo a sorridere non appena gli venivano in mente le condizioni in cui si trovava la vestaglia pranzò allegramente e dopo pranzo non scrisse nulla nessun incartamento ma fece un po' il sibarita sul letto finché non imbrunì poi senza tirarla troppo per il lungo si vestì si infilò il cappotto e uscì in strada dove precisamente abitasse il funzionario che l'aveva invitato purtroppo non possiamo dirlo la memoria qui ci tradisce e tutto ciò che c'è a Pietroburgo tutte le vie e le case si sono talmente confuse e mescolate nella nostra testa che è molto difficile tirarne fuori qualcosa di coerente comunque fosse è però certo che il funzionario abitava nella parte migliore della città dunque non troppo vicino ad Akaki e Kakajevich la prima Akaki a Kakajevich dovette percorrere certe vie deserte e debolmente illuminate ma man mano che si avvicinava alla casa del funzionario le strade diventavano più vive più popolate meglio illuminate i passanti cominciarono a essere più frequenti cominciarono a vedersi anche signore ben vestite gli uomini avevano colletti di castoro si incontravano più di rado i vetturini con le loro slitte a sbarre di legno tempestate di chiodini dorati al contrario si vedevano di continuo cocchieri con veloci puledri e berretti di velluto col lampone e slitte laccate con coperte di pelli d'orso sulla strada passavano al volo con le ruote che stridevano sulla neve carrozze con la serpa tutta adorna akai 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 akaiyevich guardava tutto questo come una novità da parecchi anni egli non usciva di sera a un certo punto si fermò con curiosità davanti alla vettrina illuminata di un negozio per guardare un quadro in cui era raffigurata una bella donna che si toglieva una scarpa esibendo così tutta la gamba che non era affatto brutta mentre alle sue spalle dalla porta di una stanza si affacciava la testa di un uomo con i basettoni e un bel pizzo alla spagnola akakia akaiyevich scosse la testa e sorrise ma poi proseguì la sua strada perché sorrise forse perché aveva visto una cosa che ignorava del tutto ma per la quale ognuno conserva tuttavia un certo fiuto perché come molti altri funzionari aveva pensato questi francesi non c'è che dire non vogliono che questo forse però non pensò nulla del genere non si può infatti entrare nell'anima di un uomo e sapere tutto ciò che pensa infine raggiunse la casa in cui abitava il vice capo ufficio il vice capo ufficio viveva con agio sulle scade splendeva un lampione l'appartamento era al secondo piano entrato in anticamera akakia akaiyevich vide sul pavimento intere file di soprascarpe fra di esse al centro della stanza c'era un samovar che rumoreggiava ed emetteva nugoli di vapore alle pareti erano apesi cappotti e mantelli alcuni dei quali avevano persino i colli di castoro o i risuolti di velluto di là dalle pareti si udivano rumori e voci e si fecero di colpo distinte e sonore quando si aprì la porta e uscì un domestico con un vassoio pieno di bicchieri vuoti di un bricco per la panna e di un cestino di biscotti evidentemente gli impiegati erano lì da un pezzo e avevano già bevuto il primo bicchiere di tè Akaki Akakajevic appeso al proprio cappotto entrò nella stanza e subito gli apparvero i funzionari le pipe e i tavolini per giocare a carte mentre gli giungeva alle orecchie un chiacchiericcio fitto che si levava da tutte le parti e il rumore delle sedie smosse e gli si fermò goffamente in mezzo alla stanza cercando sforzandosi di pensare che cosa dovesse fare ma già l'avevano notato accolto con un grido e tutti immediatamente si recarono in anticamera a contemplare un'altra volta il suo cappotto Akaki Akakajevic benché un po' confuso tuttavia essendo una persona cordiale era anche rallegrato dal fatto che lo dassero il suo cappotto poi si capisce tutti abbandonarono lui e il suo cappotto e come si conviene si rivolsero ai tavolini destinati al whist il frasvuono il chiacchiericero e la folla di gente tutto questo era in un certo senso insolito per Akaki Akakajevic egli non sapeva proprio come comportarsi dove mettere le mani le gambe e l'intera persona si sedette infine accanto ad alcuni giocatori guardò le carte sbirciò in faccia l'uno e l'altro e dopo un certo tempo cominciò a sbadigliare a sentire che si annoiava tanto più che già da un pezzo era venuta l'ora in cui d'abitudine andava a dormire voleva salutare il padrone di casa ma non glielo permisero dicendo che bisognava assolutamente bere una coppa di champagne in onore del nuovo indumento un'ora dopo servirono la cena consistente in insalata russa vitello freddo patè pasticcini e champagne e champagne costrinsero Akaki Akachievich a bere due coppe dopo le quali egli sentì che nella stanza c'era adesso più allegria senza però riuscire a dimenticare che era già mezzanotte e che già da un pezzo avrebbe dovuto essere a casa affinché in qualche modo il padrone di casa non venisse in mente di trattenerlo scattaiolò alla chitichella dalla stanza cercò in anticamera il cappotto che non senza rammarico trovò per terra lo scosse ne tolse un granello di polvere e se lo infilò e scese le scale uscendo sulla strada c'era ancora luce erano ancora aperte certe botte gucce ritrovi insostituibili di servitori e gente d'ogni genere altre erano chiuse mostravano tuttavia una lunga striscia di luce lungo tutta la fessura della porta il che significava che non erano ancora prive di frequentatori e probabilmente domestiche e domestiche erano ancora lì a scambiarsi le loro ciance e chiacchiere mentre i loro padroni si chiedevano perplessi dove diavolo potessero essere Akaki e Akakievich camminava in gaia a disposizione di spirito e una volta si mise persino chissà perché a correre dietro a una donna che gli passò accanto in un lampo muovendosi in tutto il corpo in modo singolare si arrestò però subito e si mise a camminare come prima piano piano meravigliandosi di quella corsa a cui era stato spinto chissà da cosa ben presto davanti a lui si allungarono quelle viuzze deserte che già poco allegre di giorno di notte sono ancora più remote e solitarie i lampioni accesi erano rari perché probabilmente qui si distribuiva meno olio cominciarono le case di legno le palizzate non un'anima viva solo la neve scintillava sulle strade e basse stamberghe addormentate nereggiavano tristemente con le imposte chiuse egli si avvicinava al punto dove la via sfociava in una piazza sconfinata simile a un pauroso deserto con le sue case appena visibili all'altra estremità lontano di ossatove baluginava un lumicino ad una garitta che pareva in capo al mondo a questo punto la gaiezza di Akaki Akakievich diminuì notevolmente e gli si inoltrò nella piazza non senza un certo involontario timore proprio come se il suo cuore sentisse qualcosa di spiacevole si guardò indietro e ai lati intorno a lui c'era come un mare no meglio non guardare pensò e continuò a camminare con gli occhi chiusi quando li riaprì per sapere se fosse vicino alla fine della piazza vide di colpo davanti a sé quasi a un palmo dal suo naso alcuni uomini coi baffi come fossero coi baffi non poteva dirlo gli occhi si confusero e sentì una fitta al petto ma questo cappotto è mio disse uno di quelli con voce tonante afferrandolo per il colletto Akaki Akakievich avrebbe voluto gridare aiuto ma l'altro gli mostrò sotto la bocca un pugno grosso come la testa di un funzionario dicendo prova un po' a gridare anche Akaki Akakievich si accorse soltanto che gli toglievano di dosso il cappotto e gli davano una spinta di dietro con il ginocchio e gli cadde bocconi nella neve e non capì più nulla dopo alcuni minuti ritornò in sé e si rialzò in piedi ma ormai non c'era più nessuno sentì che lì faceva freddo e che il cappotto non c'era più fece per gridare ma pareva che la sua voce non potesse giungere fino all'altro capo della piazza disperato seguitando a gridare si mise a correre attraverso la piazza dritto verso la garitta accanto alla quale stava una guardia appoggiata alla sua labarda e che guardava con curiosità chiedendosi che razza di demonio stesse correndo verso di lui da lontano gridando in quel modo Akaki Akakievich arrivò fino a lui di corsa con la voce affannata e cominciò a urlargli che dormiva e non badava nulla non vedeva neppure che stavano rapinando una persona ma guardia rispose che non aveva visto nulla aveva sì visto che l'avevano fermato in mezzo alla piazza due uomini ma aveva pensato che fossero suoi amici e che invece di imprecare inutilmente avrebbe fatto meglio ad andare l'indomani dal commissario e il commissario avrebbe fatto ricerche per trovare chi gli aveva preso il cappotto Akaki Akakievich tornò a casa di corsa tutto sconvolto i capelli che aveva ancora abbastanza numerosi sulle tempie e sulla nuca erano scompigliati aveva neve appiccicata ai fianchi al petto e su tutti i pantaloni la sua vecchia padrona di casa sentendo il suo frenetico bussare alla porta saltò frettolosamente giù dal letto e con una sola scarpa ai piedi corse ad aprire per pudore tenendosi con una mano la camicia stretta al seno e quando aprì la porta fece un passo indietro vedendo Akaki Akakievich in quello stato quando poi egli le raccontò cosa era successo giunse le mani e disse che doveva andare direttamente dal commissario distrettuale che quello del quartiere era un imbroglione faceva promesse e poi menava per il naso mentre la miglior cosa era andare direttamente direttamente dal commissario distrettuale che lei tra l'altro conosceva perché Anna la finlandese che prima aveva servito da lei come cuoca adesso era andata a fare la bambinaia da lui che sovente lo vedeva di persona quando passava accanto alla loro casa e che del resto ogni domenica lui andava in chiesa era pio e nello stesso tempo guardava tutti con simpatia e che dunque era chiaro che doveva essere una brava persona dopo aver ascoltato questi consigli Akaki Akakievic si ritirò triste nella sua camera e come vi trascorresse la notte si lascia giudicare a chi può in qualche modo immaginarsi la sua agitazione e mattina presto si diresse dal commissario distrettuale ma gli dissero che stava dormendo ci andò alle 10 gli dissero ancora che stava dormendo ci andò alle 11 e gli dissero che il commissario non era in casa ci andò all'ora di pranzo ma gli scrivani in anticamera rifiutarono di lasciarlo passare e volevano sapere quale affare e quale bisogno l'avessero condotto lì e cosa fosse successo sicché infine Akaki Akakievic per una volta in vita sua dovette mostrare del carattere e disse seccamente che doveva vedere il commissario distrettuale in persona e che non osassero non lasciarlo passare che lui veniva dal ministero per una faccenda di stato che si sarebbe lagnato di loro con chi di ragione e allora avrebbero visto contro simili argomenti gli scrivani non osarono ribattere e uno di loro andò a chiamare il commissario il commissario ascoltò in un certo modo molto strano il racconto della rapina del cappotto invece di rivolgere l'attenzione al punto principale della faccenda egli si mise a interrogare Akati Akakievic perché era rincasato così tardi non era andato per caso in qualche casa poco per bene sì che Akati Akakievic si confuse completamente e se ne uscì senza nemmeno sapere se l'affare del cappotto avrebbe preso la giusta piega oppure no per tutto quel giorno non si fece vedere in ufficio cosa unica nella sua vita il giorno dopo si presentò tutto pallido con la sua vecchia vestaglia che ora appariva ancora più lacrimevole il racconto della rapina del cappotto sebbene alcuni impiegati nemmeno in questo caso si lasciassero sfuggire l'occasione per ridere alle spalle di Akaki Akakievic commosse molti su due piedi fu deciso di fare una colletta ma si raccolse poco una sciocchezza perché gli impiegati avevano già speso parecchio sottoscrivendo per un ritratto del direttore per l'acquisto di un certo libro in seguito alla proposta del caposezione il quale era amico dell'autore sicché la somma che venne fuori era proprio ridicola ci fu una persona mossa da compassione che volle aiutare Akaki Akakievic almeno con un buon consiglio e gli disse di non andare dal commissario del quartiere perché se anche costui per guadagnarsi un elogio dei superiori fosse in qualche modo riuscito a trovare il cappotto il cappotto sarebbe però rimasto alla polizia se il proprietario non avesse presentato prove legali che esso gli apparteneva ma che la miglior cosa era di rivolgersi a un certo personaggio importante perché il personaggio importante scrivendo e mettendosi in contatto con chi di dovere poteva far sì che la cosa procedesse con un miglior esito Akaki Akakievic decise di andare dal personaggio importante quali precisamente fossero e in che cosa consistessero le mansioni del personaggio importante è tuttora ignoto bisogna sapere che quel personaggio importante era diventato tale solo da poco tempo mentre fino allora era stato un personaggio senza importanza del resto rispetto ad altre caliche ben più importanti la sua non lo era poi molto anche se nella cerchia più ristretta dei suoi colleghi era tenuto in grande considerazione comunque egli cercava di prevalere con vari mezzi e precisamente aveva stabilito che i funzionari di grado inferiore dovessero ossequiarlo già sulle scale allorché gli arrivava in ufficio che nessuno ardisse presentarsi direttamente a lui ma tutto procedesse secondo la gerarchia più rigorosa il registratore di collegio riferisse al segretario provinciale segretario provinciale a quello titolare o a chi per lui e soltanto per questo tramite la pratica arrivasse fino a lui a tal punto nella santa russia tutto è infetto dall'imitazione tutti si beffano dei loro capi e poi li scimmiotano si dice persino che un certo consigliere titolare diventato direttore di un piccolo ufficio distaccato immediatamente si fece fabbricare con un tramezzo una stanzetta che nominò stanza delle udienze e mise la porta a un usciere con il colletto rosso e i galloni che impugnava la maniglia della porta e l'apriva a tutti quelli che arrivavano sebbene nella stanza delle udienze c'entrasse a malapena una normale scrivania i modi e i costumi del personaggio importante erano austeri e maestosi ma non molto complicati severità severità e severità diceva egli di solito e dicendo questa parola era solito guardare severamente in faccia il suo interlocutore un comportamento del resto del tutto superfluo in quanto i funzionari una decina che costituivano tutto il meccanismo burocratico dell'ufficio erano già in preda al dovuto terrore scorgendolo da lontano essi lasciavano immediatamente le loro occupazioni e aspettavano in piedi sull'attenti che egli avesse attraversato la stanza la sua conversazione abituale con gli inferiori era improntata a severità e consisteva quasi soltanto di tre frasi come osate sapete con chi state parlando capite chi vi sta davanti in cor suo era anche un bravo uomo cordiale con i colleghi servizievole ma quando aveva ricevuto il grado di generale era rimasto sconvolto aveva perduto l'orientamento e non sapeva più che cosa fare quando si trovava con i suoi pari era ancora un uomo come si deve un uomo per bene sotto molti aspetti un uomo anche intelligente ma appena capitava in una società di persone che fossero solo di un grado inferiori a lui mutava completamente taceva e la sua posizione era tanto più pensosa in quanto lui stesso sapeva che avrebbe potuto trascorrere molto meglio il proprio tempo nei suoi occhi a volte si leggeva il desiderio di unirsi a questa o quella conversazione e inserirsi in una cerchia interessante ma lo fermava il seguente pensiero non sarà concedere troppo da parte mia non sarà troppo familiare non diminuirà la mia importanza così per colpa di tali ragionamenti se ne stava eternamente in silenzio o pronunciava di rado qualche monosillabo in tal modo si era acquistata la fama di persona noiosissima appunto a questo personaggio importante si presentò il nostro Akaki Akakievicz e gli si presentò nel momento meno opportuno per se stesso benché a proposito per il personaggio importante quest'ultimo si trovava nel suo gabinetto e conversava ad ottimo umore con il suo vecchio conoscente e compagno d'infanzia giunto da poco e che da vari anni non vedeva in quel momento annunciarono che era arrivato un certo bashmachin chi è? domandò egli con foga un funzionario gli risposero ah non può aspettare adesso non è il momento disse il personaggio importante qui occorre dire che il personaggio importante aveva perfettamente mentito tempo ne aveva perché lui e l'amico da un pezzo avevano esaurito gli argomenti da un pezzo alternavano la conversazione con lunghi silenzi dandosi solo ogni tanto dei colpetti sulle cosce e dicendo così dunque Ivan Abramovic eh già Stefan Varlamovic nonostante tutto questo egli ordinò lo stesso di fare attendere il funzionario per far vedere all'amico il quale da tempo non prestava più servizio e se ne stava a casa sua in campagna quanto tempo i funzionali dovessero attendere nella sua anticamera finalmente dopo aver chiacchierato e ancor più taciuto a sazietà e fumato un sigaro nelle comodissime poltrone con lo schienale ribaltabile egli parlo a ricordarsi a un tratto di qualcosa e disse al segretario che stava fermo sulla soglia con gli incartamenti per un rapporto ah sì sì mi sembra che di là ci sia un funzionario ditegli che può entrare dopo aver visto l'aria dimessa di Acaia Kakievicz e la sua vecchia uniforme gli si rivolse di scatto dicendo che cosa desiderate con una voce imperiosa e dura che aveva appositamente provato nella sua stanza solo davanti allo specchio fin da una settimana prima di aver ricevuto il suo attuale posto e il grado di generale Acai Acaievicz era già in anticipo intimidito come si conveniva al caso ora si turbò ancora più e come poté per quanto glielo permisse la scioltezza della lingua spiegò intercalando ancora più del solito la parola ecco che si trattava dunque di un cappotto proprio nuovo e che ecco era stato rapinato nel modo più disumano e che si rivolgeva a lui affinché mediante la sua intercessione ecco lui si mettesse in contatto scritto con il capo della polizia o con qualcun altro e ritrovassero il cappotto chissà perché l'atteggiamento di Bajma chi imparve troppo familiare al generale ma voi egreso signore disse di nuovo in modo imperioso non conoscete la procedura dove si vuole andare a finire non sapete come si sbrigano le pratiche per una cosa simile prima avreste dovuto presentare domanda alla cancelleria essa sarebbe passata al capo ufficio e al capo sezione e poi sarebbe stata trasmessa al segretario e il segretario infine l'avrebbe portata da me ma vostra eccellenza disse a Caglio a Cacchievitz sforzandosi di raccogliere tutta la presenza di spirito che gli restava e sentendo nello stesso tempo che sudava in modo spaventoso io vostra eccellenza ho ardito disturbarvi perché i segretari ecco sono gente di cui non ci si può fidare cosa 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 disse il personaggio importante chi vi ha dato tanto ardire chi vi ha messo in testa queste idee che specie di ribellione si è diffusa fra i giovani contro i capi e superiori a quanto pare il personaggio importante non aveva notato che Cacchi e Cacchievitz aveva già oltrepassato la cinquantina sicché se mai lo si poteva chiamare giovane era forse soltanto in confronto a chi aveva settant'anni ma sapete voi con chi state parlando capite chi vi sta davanti lo capite questo lo capite e a voi che lo domando a questo punto e gli batte il piede portando la voce a una nota così alta che si sarebbe spaventato non soltanto a Cacchievic quanto a lui a Cacchievic rimase tramordito parcollò cominciò a tremare in tutto il corpo e non ebbe più la forza di stare in piedi se gli usciari non fossero accorsi a sorreggerlo sarebbe stramazzato sul pavimento lo portarono fuori che era quasi esanime il personaggio importante intanto contento che l'effetto avesse persino superato le sue aspettative e completamente tranquillizzato dal pensiero che le sue parole potessero persino far perdere sensi a una persona sbirciò di traverso l'amico per sapere come considerasse la cosa e non senza soddisfazione vide che il suo amico si trovava in uno stato d'animo alquanto incerto e cominciava anche lui da parte sua a provare paura Akai Akakievis non riuscì mai più a ricordare come fosse sceso dalle scale e fosse uscito in strada non si sentiva più nelle braccia nelle gambe mai in vita sua era stato così orribilmente strapazzato da un generale per di più estraneo camminava a bocca aperta in mezzo alla tormenta che si bilava nelle strade scivolava giù dal marciapiede il vento come di consueto a Pietroburgo lo assaliva da tutte e quattro le direzioni da tutti i vicoli improvvisamente sentì male alla gola e si trascinò a casa che non era neanche più in grado di dire una parola era tutto gonfio e si mise a letto tanto forte può essere a volte una strapazzata il giorno dopo gli si manifestò una forte febbre grazie alla generosa collaborazione del clima Pietroburghese la malattia procedette più rapida di quanto ci si potesse aspettare e quando comparve il dottore tastato il polso non trova altro da fare che prescrivere un impacco ma solo perché il malato non restasse privo del benefico aiuto della medicina del resto dichiarò subito entro un giorno e mezzo sarebbe immancabilmente morto dopodiché si rivolse alla padrona di casa e disse e voi nonnina non perdete inutilmente il tempo ordinategli subito una bella barra da bete una di quersa sarebbe troppo cara se Akaki Akakievich udì queste parole per lui fatali e se avendole udite ne fu sconvolto se insomma rimpianse la sua vita derelitta di questo nulla si sa perché rimase per tutto quel tempo in preda al delirio alla febbre continuamente gli apparivano visioni una più strana dell'altra ora vedeva Petrovic e gli ordinava di fargli un cappotto con delle trappole contro i ladri che credeva di avere sotto il letto tanto che ogni momento chiamava la padrona perché tirasse fuori un ladro persino di sotto la coperta ora domandava perché davanti a lui stesse appesa la sua vecchia vestaglia dato che lui ormai aveva un cappotto nuovo ora gli sembrava di stare in piedi davanti al generale ascoltando la strapazzata che si meritava dicendo ogni tanto sono colpevole vostra eccellenza ora infine bestemmiava persino morborando le parole più terribili tanto che la vecchia padrona di casa che da quando era nata non aveva mai udito nulla di simile si faceva il segno della croce anche perché queste parole venivano subito dopo l'espressione vostra eccellenza poi disse cose assolutamente insensate incomprensibili si capiva solo che quelle parole e quei pensieri sconclusionati ruotavano sempre intorno al cappotto infine il povero Akaki Akakievich spirò nella sua stanza nelle sue cose vennero poste sotto sigillo perché in primo luogo non c'erano eredi e in secondo luogo da ereditare c'era ben poco e precisamente un mazzo di penne d'oca una risma di carta bianca protocollo tre paia di calzini due o tre bottoni staccatisi dai pantaloni e la vestaglia che l'ottore ormai già conosce Dio soltanto sa a chi si è andato tutto questo confesso che della cosa non si è interessato neppure chi ha scritto questo racconto portarono via Akaki Akakievich e lo seppellirono e Pietroburgo rimase senza Akaki Akakievich come se mai fosse esistito scomparve e si dileguò un essere che nessuno aveva difeso che a nessuno era stato caro per nessuno interessante che non aveva attirato su di sé nemmeno l'attenzione del naturalista il quale pure non disdegna di infilare su uno spillo una comunissima mosca e di osservarla al microscopio un essere che aveva sopportato docilmente tutte le irrisioni del suo ufficio ed era sceso nella tomba senza aver compiuto alcuna straordinaria impresa però verso la fine della vita a questo essere era apparso un ospite luminoso sotto forma di un cappotto un cappotto che per un istante aveva ravvivato la sua povera esistenza ma su quale poi sarà battuta implacabile la sciagura così come si abbatte sugli imperatori e i sovrani del mondo alcuni giorni dopo la sua morte nel ministero gli mandarono a casa un usciere con l'ordine di presentarsi immediatamente il direttore lo voleva ma l'usciere dovete tornarsene a mani vuote e riferire che a Kaki Akakievich non si sarebbe più presentato e alla domanda perché rispose con queste parole ma è già morto sono tre giorni che gli hanno fatto i funerali così al ministero vennero a sapere della morte di Akaki Akakievich il giorno dopo al suo posto già sedeva un altro impiegato assai più alto di statura e che non allineava le lettere con una scrittura così regolare ma molto più inclinate e storte ma chi avrebbe potuto immaginare che questo non era ancora tutto a proposito di Akaki Akakievich che egli era destinato a vivere ancora alcuni giorni dopo la sua morte e con gran rumore come a ricompensa della sua vita da tutti trascurata eppure così accade e la nostra povera storia si conclude inaspettatamente nel modo più fantastico per Pietroburgo si spassero un tratto delle voci che al ponte Kalinking e anche molto più lontano aveva cominciato ad apparire un morto dall'aspetto di un impiegato che cercava un cappotto rubato e con il pretesto del cappotto rubato strappava da tutte le spalle senza badare a grado o titolo ogni sorta di soprabiti con collo di gatto di castoro imbottiti pellicce di procione di volpe d'orso insomma belli e peli di ogni genere che gli uomini hanno inventato per coprirsi uno dei funzionari del ministero vide il morto con i suoi occhi e vi riconobbe immediatamente Akaki e Akakievic ciò gli procurò un tale terrore che si buttò a correre a gambe levate e perciò non poté distinguerlo bene vide soltanto che da lontano il morto lo minacciava con un dito da tutte le parti cominciarono ad arrivare la mentele che le schiene e le spalle non soltanto dei consiglieri titolari ma persino dei consiglieri segreti erano minacciati da terribili infreddature a causa di quella notturna asportazione dei soprabiti alla polizia venne data disposizione di catturare il morto a qualunque costo e di punirlo nella maniera più feroce perché servisse da esempio agli altri e si deve dire che quasi vi riuscì proprio così la guardia di non so quale quartiere riuscì nel vicolo Kiriuskin ad agguantare il morto per il bavero proprio sul fatto mentre tentava di strappare un cappotto di panno di frisia a un certo musicista a riposo che a suo tempo suonava il flauto afferratolo per il bavero chiamò gridando due o tre colleghi ai quali l'affilò affinché lo tenessero mentre lui solo per un istante infilò una mano in uno stivale per tirarne fuori la tabacchiera e ristorarsi il naso che gli si era già congelato sei volte nella sua vita ma di certo il tabacco era di una qualità che nemmeno un morto poteva sopportare chiusa con un dito alla narice destra la guardia non fece in tempo ad aspirare una mezza presa con la sinistra che il morto starnutì così forte da spruzzare completamente gli occhi a tutti e tre mentre essi alzavano le mani per asciugarsi il morto si dileguò e di lui scomparve ogni traccia nessuno dei tre avrebbe saputo dire con precisione se l'avesse avuto veramente fra le mani da quel giorno le guardie si presero una tal paura dai morti che temevano persino di agguantare i vivi e si limitavano a gridare da lontano e tu va per la tua strada e il morto funzionario cominciò a farsi vedere anche oltre il ponte calinchin incutendolo un poco terrore in tutta la gente pavida ma noi abbiamo completamente abbandonato quel personaggio importante che in realtà era forse stato la causa della piega fantastica assunta da questa storia peraltro assolutamente veridica prima di tutto un dovere di giustizia esige che si dica che quel personaggio importante subito dopo che il povero e strapazzato Akaki Akakievich se n'era andato aveva provato qualcosa di simile alla compassione la compassione non gli era estranea il suo cuore era accessibile a molti buoni impulsi sebbene il grado troppo spesso impedisse loro di manifestarsi non appena fu uscito dal suo gabinetto l'amico di passaggio egli si mise a pensare al povero Akaki Akakievich e da quel momento quasi ogni giorno cominciò ad apparirgli il povero Akaki Akakievich che non aveva saputo resistere alla strapazzata del superiore questo pensiero lo agitava a tal punto che una settimana dopo egli addirittura decise di mandare un impiegato per sapere come stesse e che cosa facesse e se non lo si potesse aiutare in qualche modo e quando gli riferirono che Akaki Akakievich era morto prematuramente di febbre rimase sbigottito sentì rimorsi della coscienza e per tutta la giornata non fu più lui desiderando distrarsi e dimenticare la spiacevole impressione si recò a una serata a casa di un suo amico dove trovò una compagnia assai distinta e cosa molto importante di gente quasi tutta dello stesso grado sicché egli non ebbe bisogno di sentirsi legato e questo ebbe un effetto sorprendente sul suo umore egli si sciolse e si fece gradevole nella conversazione cortese insomma trascorse quella serata molto piacevolmente a cena beve un paio di bicchieri di champagne che come noto è ottimo per stimolare la gaiezza lo champagne lo spinse a prendere decisioni straordinarie e cioè non andare a casa ma passare da una certa signora di sua conoscenza Carolina Ivanovna una signora sembra di origine tedesca per la quale egli nutriva sentimenti più che amichevoli occorre dire che il personaggio importante era un uomo non più giovane un buon marito un rispettabile padre di famiglia aveva due figli uno dei quali già prestava servizio in un ufficio statale e una graziosa fanciulla di 16 anni con il nasino all'insù essi venivano ogni giorno a baciargli la mano dicendo bonjour papà la sua consorte una donna ancora fresca assai graziosa prima gli dava da baciare la propria mano e poi rivoltandola gli baciava la sua ma il personaggio importante sebbene pienamente soddisfatto delle domestiche familiari tenerezze aveva ritenuto decoroso intracciare una relazione amichevole con una conoscente che abitava in un'altra parte della città questa amica non era né più bella né più giovane della moglie ma di queste incongruenze è pieno il mondo e non è affernostro giudicarne così il personaggio importante scese le scale montò su una slitta e disse al cocchiere la carolina la carolina ivanovna mentre da parte sua avvolta sai confortevolmente in un caldo cappotto restava in quella piacevole disposizione d'animo migliore della quale per un russo non si può immaginare e cioè quando non si pensa a nulla e i pensieri ti frullano da soli in testa uno più gradevole dell'altro senza neppure la fatica di inseguirli e cercarli d'ottimo umore egli andava ricordando i momenti simpatici della serata appena trascorsa tutte le parole che avevano fatto ridere la piccola cerchia si ripeteva persino molte di esse a bassa voce e trovava che erano ancora buffe come prima e perciò non c'era niente di strano che ne ridesse anche egli nel cuore di tanto in tanto tuttavia gli dava noia il vento impetuoso che levandosi improvvisamente da chissà dove chissà per quale motivo gli tagliava la faccia gli gettava addosso folate di neve confiando come una vera albavero del cappotto e rovesciandoglielo di colpo con forza innaturale sulla testa costrungendolo così a fare continui sforzi per rimetterlo a posto a un tratto il personaggio importante sentì che qualcuno l'aveva afferrato vigorosamente per il bavero voltandosi vide un uomo di piccola statura con una vecchia uniforme consunta e non senza terrore riconobbe in lui Akaki Akakievich la faccia dell'impiogata era bianca come la neve e sembrava proprio la faccia di un morto ma il terrore del personaggio importante superò tutti i limiti quando vide che la bocca del morto si storceva e alitandogli addosso un orribile lezzo di tomba pronunciava queste parole ah sei tu finalmente finalmente ecco ti ho raggiunto è il tuo cappotto che mi serve non ti preoccupasti del mio anzi mi maltrattasti e adesso dammi il tuo il povero personaggio importante per poco non morì sebbene in ufficio e in genere di fronte agli inferiori fosse un uomo di carattere e di certo chiunque vedendo il suo volto e la sua figura virile avrebbe detto ah che uomo qui come accade a molti che hanno un aspetto da eroe sentì un tal terrore che non senza ragione cominciò a temere che gli pigliasse un colpo si tolse egli stesso frettolosamente il cappotto dalle spalle e gridò il cocchiere con voce che non era più la sua ricorsa a casa il cocchiere udito quel grido che era di quelli che si emettono nei momenti decisivi e si accompagnano anche con qualcosa di più convincente ritirò per ogni evenienza la testa nelle spalle agitò la frusta e partì come una freccia pallido spaventato anziché da carolina ivanovna egli arrivò a casa sua si trascinò come poté fino alla sua stanza e passò la notte in modo assai agitato tanto che il giorno dopo al tè del mattino la figlia gli disse con franchezza oggi sei molto pallido papà ma il papà tacque e non fece parola ad alcuno di ciò che gli era accaduto e dove era andato e dove aveva avuto intenzione di andare questo avvenimento produsse in lui una forte impressione cominciò perfino a dire più di rado ai sottoposti come osate capite chi avete davanti e se anche diceva qualcosa del genere non lo faceva mai prima di aver ascoltato la richiesta ma ancor più sintomatico è il fatto che da quel giorno cessarono le apparizioni dell'impiegato morto evidentemente il cappotto generalizio era andato a pennello perlomeno non si sentì più parlare di cappotti strappati molte persone zelanti non vollero però tranquillizzarsi e seguitarono a dire che nelle parti più remote della città l'impiegato morto si faceva vedere ancora e in verità una guardia di colonna vide con i propri occhi il fantasma apparire da dietro una casa ma essendo di natura pacifica tanto che una volta un comune porcellino che scappava di corsa da una casa privata l'aveva mandato a gambe all'aria fra le risa di alcuni vetturini che stavano lì intorno e dai quali gli aveva poi preteso un soldo di tabacco per la presa in giro essendo dunque un tipo pacifico non lo so fermarlo non lo seguì nell'oscurità finché il fantasma si voltò e disse fermandosi tu che cerchi e gli mostrò un pugno come non se ne trovano fra i vivi la guardia rispose niente e tornò subito indietro ma va notato che quel fantasma era di statura troppo alta portava grandi baffi e dirigendosi pare verso il ponte Obukov si dileguò nel buio della notte grazie a tutti grazie a tutti per la notte grazie a tutti Grazie a tutti